Buonasera a tutti e ben arrivati in questa splendida residenza del Maria Cecilia Hospital Hospital di Cotignola. Siamo lieti di tenere oggi questo convegno, questo forum che fa parte degli incontri con i grandi esperti della salute. Il mio compito è quello di tanto portarvi i saluti del nostro editore che è il dottore Andrea Rifeser che come sapete da ieri è diventato anche il presidente della FIEG e quindi sta cercando in effetti di dare molta attività alla sua dotazione iniziale che è quella di editore puro e con lui ha anche tutta la parte della redazione di Quotidiano Nazionale il resto del Cardino Nazione Giorno ma soprattutto della redazione del Cardino Salute e di Quotidiano Nazionale Salute che è il supplemento che esce nella giornata di domenica dove qui abbiamo il nostro massimo esponente che è il giornalista scientifico il dottor Federico Meretta. Eccolo qua. Un applauso ci vuole però Federico. Devo fare dei ringraziamenti. Allora i ringraziamenti li faccio innanzitutto al dottore Ettore Sansavini che trovo qui davanti a noi che è un po' il nostro ospite di casa, il nostro padrone di casa, colui che ci ha permesso di utilizzare questa sala, questa struttura e quindi lo ringraziamo di cuore ma lo ringraziamo in particolare per la qualità delle sue attività che sta esprimando in questo momento. Grazie mille. Devo poi un altro ringraziamento alle autorità intervenute tutte, ringrazio Carabinieri, ringrazio coloro che ci sono e vado ad annunciare un pochino coloro che fanno parte di questo incontro di oggi che sono il dottor Marcello Tonini, direttore generale dell'AUSL Ara Vasta Romagna. Applauso. Il dottor Tonini, vi dico solo una cosa, è simpaticissimo. La prima volta che ci siamo sentiti al telefono mi ha detto in effetti io sono quella persona che le ha cercato tanto ma adesso ci sono. Quindi grazie dottor Tonini. Poi il dottor Paolo Lucchi che in questo preciso momento purtroppo non è potuto intervenire e avremo il sindaco del comune di Cotignola che è il dottor Luca Piovacari che è anche presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che ci porterà un saluto anche in nome per conto del dottor Lucchi. Dico bene? Ecco, ottimo. Poi proseguo invece col professor Carlo Bottari, onorati di averla con noi, professore, professore ordinario di istituzione di diritto pubblico e docente di diritto costituzionale e diritto sanitario presso l'Università di Bologna che è anche autore del libro Profili innovativi del sistema sanitario. Applauso bicidiale. E poi arrivo all'unica Quattarosa di oggi, però purtroppo siamo destinati così, cara, non si può fare diversamente che lo lasciamo. Però siamo, eh? Ok. Allora, la dottoressa Esther Maragò che è giornalista del quotidiano Sanità. Doppio applauso per la Quattarosa. E ducisi in fundo il dottor Bruno Biaggi che è il presidente dell'IOP Emilia Romagna e vicepresidente a IOP Nazionale. Grazie dottore di essere con noi. Mi dicevo che il moderatore è il dottor Federico Mereta, al quale lascio la parola e vi dico solo che vi riprendo al termine di questa bella chiacchierata, perché poi insieme brinderemo al Maria Cecilia Ospite, ma anche a tutto il forum. Grazie mille, a dopo. Grazie, grazie Oda. Buonasera a tutti. Da un po' di tempo con Oda abbiamo questi momenti di presentazione, quindi non preoccupatevi nel senso che io ricevo degli applausi meritati. Io sono un medico che nella vita poi si è messo a scrivere da un bel po' di tempo. E con questi incontri del Carlino in salute, fondamentalmente quello che tentiamo di fare è di cercare di raccontare un po' delle situazioni, di avere un po' uno storytelling di quello che può essere una particolare situazione. Quasi sempre questi incontri sono in termini di patologia, quindi alle persone raccontiamo cosa fare, come muoversi, perché muoversi, eccetera, eccetera. Questa sera cerchiamo di capire un po' quello che è oggi il modello che stiamo vivendo, anche grazie all'aiuto di Esther, che io dico Esther perché siamo amici, ci conosciamo da tempo, comunque la dottoressa Maragò, che con Quotidiano Sanità rappresenta proprio un osservatorio attento e puntuale di quelli che sono gli spostamenti, i mutamenti, dal punto di vista di governance e dal punto di vista di modelli assistenziali che sta un po' vivendo la sanità italiana. Vi dicevo, questa sera quello che cercheremo di fare è, chiacchierando tra di noi e chiacchierando molto anche con voi, quindi dopo questa nostra mezz'ora, 40 minuti, abbiamo tempo per discutere un attimo anche su quanto emerge e sentire quelle che sono le proposte e le domande che da voi vengano. Su questo discorso dell'Ausl Area vasta Romagna, perché il titolo secondo me è estremamente impressivo, qualità, innovazione, collaborazione e vedere se questo tipo di modello che si è sviluppato, si sta sviluppando, credo sia in un continuo fieri, dottor Tonini, nel senso che le sfide della sanità cambiano anche di giorno in giorno, l'organizzazione, la governance si trovano di fronte a sfide sempre diverse, per vedere un po' quello che siamo oggi e soprattutto quello che potremo essere domani, anche in una logica di integrazione tra pubblico e privato che poi proprio per i modelli che si stanno creando potrà avere uno spazio sempre maggiore, sempre diverso, lo vedremo assieme. Partendo da tutto questo, il nostro punto di partenza deve essere un documento e il documento è quello che ci propone il professor Ottari, che prima abbiamo visto profili innovativi del sistema sanitario. Ovviamente il professore ce l'ha promesso, non ci racconterà tutto il libro perché altrimenti diventa una bellissima presentazione di un libro, ma ci darà qualche spunto per capire. Prima di passare la parola al professore, io chiamerei giusto per i saluti, il sindaco Pio Baccari che è già stato presentato, per dirci un po' dal vostro punto di vista, perché quello che volevamo fare era proprio capire il sociale, il sanitario, una sanità che sarà sempre meno ospedalocentrica, ma che avrà bisogno di centri estremamente importanti e interessanti per le patologie acute. Ecco, dal punto di vista del Comune e cosa può essere una sanità di questo tipo e poi quello che vivete qua a Cofignola. Grazie a un centro a 10 minuti. Buonasera a tutti. Io naturalmente porto i saluti del Presidente della Conferenza Sanitaria della Romagna, il dottor Lucchi che stasera non è potuto intervenire e quindi in qualche modo cerco di portare la vicinanza degli amministratori locali, non solo di questo territorio, ma di tutta la Romagna, che sono naturalmente attenti e vigili rispetto a questo importante ed ambizioso progetto che è quello dell'Asile Romagna. Naturalmente io mi auguro che a quella domanda la risposta sia positiva, perché quando come amministratori abbiamo scelto di portare avanti questo progetto l'abbiamo fatto nella consapevolezza che era necessario mettere mano a un sistema sanitario che sicuramente è un sistema sanitario di grande eccellenza, che è quello dell'Emilia Romagna, quello della Romagna in questo caso in particolare. Ma l'abbiamo fatto sapendo che era indispensabile non rimanere fermi, ma guardare avanti e cercare di mettere mano l'organizzazione sanitaria, sapendo che i bisogni di salute sono in continua evoluzione e richiedono appunto delle risposte nuove e diverse a quelle che siamo riusciti a dare finora. Io ringrazio chi ha organizzato questo evento, quindi Carlino, Presidente San Savini per l'ospitalità. Credo sia importante parlare di questo progetto e farlo all'interno di una struttura di grande eccellenza come sicuramente Villa Maria Cecilia. Lo dico perché uno dei punti importanti per la riuscita e per il successo di questo progetto è sicuramente anche riuscire a costruire e a migliorare la sinergia tra la sanità pubblica e la sanità privata. Questi sono territori in cui gli amministratori locali sono abituati a fare scelte anche difficili e se vogliamo impopolari, perché qui negli anni 90 noi abbiamo chiuso diversi ospedali, qui ci sono anche alcuni dei protagonisti che hanno seguito quella fase importante, fase storica. E' chiaro che nessuno si diverte a chiudere dei servizi, ma quando si fece quella scelta la si fece perché si capì che non era più sostenibile un tipo di sanità articolata in quel modo. Il progetto dell'AS Romagna in qualche modo va nella stessa direzione. Cercare di mettere mano al sistema sanitario della Romagna e cercare di migliorare la sua integrazione, ragionare sul fatto che non possiamo più pensare che in tutti gli ospedali ci siano tutte le specialità e tutte le risposte ai bisogni dei cittadini, ma immaginare un progetto che si traguarda nel tempo per offrire a tutti i cittadini della Romagna la possibilità di potersi curare, di poter avere risposte ai propri bisogni di salute nell'arco di 70-80 km, cosa che nessun territorio in Italia è in grado di garantire. Questo lo si fa qualificando prima di tutto i nostri servizi ospedalieri, quindi sviluppando vocazioni distintive in ciascun ospedale. Far sì che ogni ospedale sviluppi un'alta professionalità a servizio di tutto il bacino territoriale della Romagna. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Consentitemi innanzitutto di ringraziare il Presidente Ettore Sanzavini che con entusiasmo ha organizzato questa iniziativa in occasione dell'uscita del mio volume sui profili innovativi del sistema sanitario. Ettore Sanzavini con cui ci lega un rapporto professionale da tantissimi anni, ormai quasi quanto il servizio sanitario nazionale, quasi 40 anni e non soltanto quelli che ci legano altri episodi che sono avvenuti in tutti questi 40 anni. Ettore Sanzavini che desidero ringraziare anche per quello che ha dato, che continua a dare alla sanità, alla sanità in Italia e non soltanto in Italia. Ricordiamoci che il ruolo, anche questa distinzione di cui si parlava prima fra sanità pubblica e sanità privata è una distinzione per molti versi artificiosa perché non c'è una sanità pubblica o una sanità pubblica. La sanità è pubblica di qualsiasi tipo. Poi è chiaro che il soggetto che la pone in essere può essere un soggetto privato o pubblico, ma noi quello a cui dobbiamo far riferimento è la finalità dell'attività e non c'è dubbio che la sanità sia una finalità di interesse pubblico, di interesse generale, chiunque la ponga in essere. Quindi anche su questo io ringrazio il Presidente Sanzavini perché anche in tutti questi anni, e credo che lo stesso Tonini lo può riconoscere, l'intervento di strutture come ad esempio quella che ci ospita oggi è stato un intervento anche di promozione del miglioramento della qualità nelle strutture pubbliche. Non c'è dubbio che le attrezzature che sono presenti oggi in una struttura di questo tipo incitano poi anche le strutture pubbliche a migliorarsi e quindi a dare una risposta molto più efficiente e questo lo sappiamo che Ettore Sanzavini lo fa non soltanto a Cotignola ma in tantissime altre parti d'Italia all'estero. Quindi un ringraziamento veramente sentito e sincero per questa sua attività. Siamo, come dicevo, a 40 anni dalla istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Nel dicembre del 1978 fu approvata la legge numero 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Una legge che era stata preannunciata dal decreto del DPR 616 del 77 che già aveva modificato alcune competenze attribuite alle regioni e che riprendendo quello che era e che ancora l'Eat Service della Gran Bretagna riproduceva quel sistema organizzativo anche all'interno del nostro Paese. Ecco, a 40 anni di distanza dobbiamo porci delle domande. Innanzitutto è migliorata la qualità dell'assistenza sanitaria nel nostro Paese? È migliorata la qualità della vita dei nostri cittadini e non soltanto dei nostri cittadini? Sono domande alle quali non possiamo che rispondere affermativamente e non c'è dubbio che sono stati fatti dei progressi giganteschi da 40 anni a poco. Pensiamo soltanto alla prevenzione. La prevenzione 40 anni fa non esisteva. Non esisteva perché volutamente l'Assemblea Costituente, basta andare a leggere i resoconti dell'Assemblea Costituente, riteneva che la prevenzione non fosse una competenza da dare alle regioni ma doveva essere una competenza che doveva restare allo Stato. Perché? Perché la prevenzione voleva dire sicurezza pubblica, tutela della sicurezza pubblica e quindi come tale la prevenzione doveva restare al Ministro degli Interni e probabilmente questo concetto sta un po' ritornando in auge con le ultime elezioni politiche. Ecco, ma questo per farvi capire che allora la prevenzione non era neanche considerata. Oggi è diciamo il 50% del servito sanitario. Prevenire, ma prevenire in vari livelli. Pensiamo a tutto il comparto dell'educazione. 40 anni fa non se ne sapeva nulla, non esisteva nessun tipo di educazione. Pensate a quello che si fa oggi per l'educazione alimentare che è diventata poi estremamente di moda e sappiamo per quale ragione. Pensate alla educazione sanitaria che viene oggi svolta a vari livelli anche all'interno dei contesti scolastici. Pensiamo alla educazione. Questo lo dico perché sono stato per sei anni preside della Facoltà di Scienze Motore all'educazione motoria che prima non esisteva. Quello come si fa oggi affidamento all'attività motoria che è diventata fondamentale per ridurre la spesa sanitaria. Silvio Garattini l'anno scorso è venuto da noi a tenerci una conferenza e ci disse che se noi vogliamo prevenire malattie come l'Alzheimer soprattutto per il 50% la prevenzione dipende dall'attività motoria, far compiere attività motoria. Poi il 30% dipenderà dall'alimentazione ma il 50% e aggiungo anche un ulteriore elemento che desumiamo anche dalle ultime dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. cosa ci dice l'OMS? L'OMS ci dice che il benessere di una popolazione dipende al 50% dal livello culturale di quella popolazione perché se quella popolazione ha un livello culturale che la porta ad avere un'educazione alimentare, ad avere un'educazione preventiva dal punto di vista motorio, avere un'educazione anche alla propria dignità di vita, questo poi corrisponderà con le strutture sanitarie che si vanno a creare a realizzare quell'obiettivo di benessere che oggi è diventato indispensabile e che vediamo sempre di più all'attenzione non soltanto del nostro governo ma anche soprattutto dell'Unione Europea. Noi siamo oggi in una fase di profonda trasformazione e questo è quello che un po' si desume, profonda trasformazione del nostro sistema di assistenza sanitaria per molte ragioni. La prima è quella più scontata, l'aspettativa di vita, non c'è dubbio che in questi 40 anni noi abbiamo fatto un salto enorme e raccontava l'altro giorno il Presidente della Regione Bonaccini che in Cina dal 1950 al 1980, che era Bruno presente, dal 1950 al 1980 l'aspettativa di vita è aumentata di ben 25 anni, questo capite che cosa significa anche a livello di attività produttiva di un paese, 25 anni in più. E lo stesso Bonaccini ci riferiva a una proiezione che ormai è stata consolidata all'interno della conferenza Stato-Regioni che nel giro di 15 anni noi avremo 800 mila badanti in più e 400 mila insegnanti in meno. Voi capite questo che cosa significa? Significa una rivoluzione, significa una rivoluzione perché? È perché noi ci troviamo, Nicotonini si ritroverà a dover dare assistenza non più per 25 anni ma per darla almeno per 35 anni. Sul Corriere della Sera l'altro giorno c'era un articolo dove si diceva che ci sono mi pare 700 mila persone in Italia che percepiscono la pensione già da 35 anni, le due pensioni che sono dati ai mei tempi, quindi gente che sta in pensione anche più di 40 anni. Pensate se è sostenibile un sistema di questo tipo e se lo sarà anche per la sanità. La sanità dovrà avere di fronte dei tempi molto più ampi. Perché? Perché poi c'è stata la cronicizzazione di molte malattie. Malattie che una volta si risolvevano in periodi molto più brevi, oggi pensiamo anche alle stesse malattie oncologiche, ma Alzheimer, Parkinson, malattie oncologiche e tante altre, oggi non hanno soltanto necessità di un intervento di tipo sanitario, ma come giustamente diceva prima il Sindaco, hanno necessità anche di un intervento sociale e qui è diventata indispensabile l'integrazione fra il sociale e il sanitario. Nel decreto Balduzzi del 2012 si parla di presa in carico. Perché? Perché il servizio sanitario dovrà prendere in carico il cittadino da quando nasce a quando muore. E in questo percorso, che potrà essere di 70 o 80 quello che sarà, è chiaro che ci saranno momenti che sono affidati alla sanità e momenti forse molto più lunghi che saranno affidati al sociale. Ma questo è soltanto un esempio, già lo ricordava prima anche il Sindaco, la conferenza dell'Ocse di Tel Aviv di due mesi fa lo rimarcava, l'ospedale come tale sta perdendo la sua centralità. Noi siamo abituati a quella struttura ospedaliera nata nel 1968, quindi dieci anni prima dell'istituzione del servizio sanitario dalla legge Mariotti istitutiva degli enti ospedalieri e abbiamo costruito tutto il sistema di assistenza sanitaria attorno all'ospedale. Oggi questo sta venendo meno, sta venendo meno perché gli amici chirurghi sanno bene, l'amico Mattioli ce lo può raccontare, come la chirurgia sta perdendo tante di quelle sue prerogative che aveva una volta. Quante operazioni una volta si facevano invasive oggi non lo sono più, quante operazioni una volta necessitavano di un ricovero ospedaliero e oggi non ne necessitano più. Questo ti porta a ragionare di come noi dobbiamo organizzare un sistema diverso. L'esempio della USL unica, l'azienda vasta dell'Emilia della Romagna è una di queste esemplificazioni. Se noi andiamo a leggere la legge della Lombardia dello scorso anno, per esempio la Lombardia che pur affatica, perché mi risulta che ancora non abbiano ottenuto quei risultati che speravano, però la Lombardia ha dato vita a un sistema completamente diverso basato sulla presa in carico di un cittadino proprio per portarlo secondo queste nuove direttive. Ma pensiamo alla professione del medico, dicevo prima del chirurgo, ma pensate anche qui, se voi andate al terzo piano dove mi ha portato più volte Ettore Sanzavini. Può darsi che vi rendiate conto che girano meno medici, ma molto di più ingegneri, informatici, fisici, biologi, sociologi, psicologi. Perché? Perché ormai all'interno della struttura è una componente interdisciplinare nel più ampio senso della parola. Non c'è più il sanitario, non c'è più il medico. Quando si utilizza un robot, come fanno in tantissime strutture, l'ho visto da noi al Sant'Orso alla Bologna nel reparto di urologia, che oramai gli interventi sono tutti fatti con robot, ma di medico ce ne sa uno perché gli altri sono tutti informatici, sono ingegneri, sono quelli che comandano la struttura su come deve essere realizzato l'intervento eccetera. Pensate a com'è cambiato il ruolo dell'infermiere, che cos'era 40 anni fa l'infermiere e cos'è oggi l'infermiere. L'infermiere è oggi una presenza molto importante, fondamentale all'interno della struttura, che ha dei compiti molto più ampi di quelli che aveva 40 anni fa. Addirittura alcune strutture, alcune unità operative, alcune unità operative lavorano sotto la guida di un infermiere, un infermiere specializzato, un infermiere professionale. Ci sono ormai, noi anche a Bologna stiamo percorrendo questa strada formativa con la figura dell'infermiere forense, con la figura dell'infermiere di famiglia, perché? Perché la nuova organizzazione sanitaria avrà sempre più bisogno di queste figure professionali. Quindi anche da questo punto di vista è molto importante la formazione, che noi proprio da questo punto di vista forse è il lato meno trattato in tutti questi anni. L'aspetto formativo è stato un po' negletto a tutti i livelli, soprattutto a partire dal Ministero della Pubblica Istruzione che si è indirizzato su altri che non invece su questi aspetti che sono fondamentali per l'attuazione di un diverso servizio sanitario nazionale. Ecco, vedete, questi sono alcuni esempi di come sta cambiando il nostro servizio sanitario, di come noi dobbiamo andare incontro alle nuove aspettative che richiederanno non soltanto delle maggiori indisciplinarietà rispetto a quelle che abbiamo avuto fino adesso, ma richiederanno soprattutto dei nuovi e più efficaci modelli organizzativi. Non c'è dubbio che quello messo in cantiere dalla Regione Mila-Romagna e diretto egregiamente dall'amico Tonini è quello che può darci i risultati maggiori e lascio a lui il compito di spiegarci. Grazie, grazie professore. Credo che abbia messo sul piatto veramente tantissimi argomenti e tantissimi aspetti. A me viene da pensare che il sistema sanitario ha 40 anni e i 40 anni l'età in cui si bisogna cominciare a fare di screening, mettere un po' a posto, trasferiamolo sull'età umana e vediamo che è proprio l'età in cui comincia a esserci qualche criticità, per dire. E la sanità ha il compito di in qualche modo avviarsi verso la diagnosi precoce, una diagnosi precoce che in questo caso passa molto attraverso quello che ha detto il professore, perché è vero che si campa sempre di più, ma bisogna anche vedere in che condizioni poi si campa, perché noi stiamo e siamo riusciti ad allungare la vita dal punto di vista quantitativo, però poi il bisogno delle vadanti ci indica che le persone che prima magari morivano un po' prima, e le famiglie. Esatto, morivano un po' prima, stanno configurando. La zia Gitella, i nonni, oggi non esistono più, quindi chi è che sta dietro? Sicuramente. E l'altro aspetto importante, che è quello culturale, è tutto molto riferito e relativo alla cultura, mi piace sempre ricordarlo perché dobbiamo anche capire in che ambiente ci muoviamo. Secondo l'Ocse, in questo Paese il 47% degli abitanti ha un alfabeto funzionale, che vuol dire che se gli diamo da leggere una pagina completamente scritta come questa, alla fine di tutta questa lettura diciamo che ha un po' di difficoltà da aver compreso tutta la pagina. L'Ocse dice il 47%. È un dato importante perché in termini di sanità, ieri sera chiacchieravamo, si diceva, in un'altra regione si diceva, ma voi pensate quando arriva la lettera a casa per lo screening del colon retto. Sono quattro pagine in cui probabilmente ti si prospettano un po' tutte le cose. Allora, anche in termini di comunicazione, un sistema così complesso, ma allo stesso tempo affascinante come un'ausole così grande, può diventare secondo me davvero un modello. Io chiederei al Dottor Tonini e poi al Dottor Biagi. Proprio i tre, quattro punti che oggi per voi rappresentano la sfida, a lei in che modo si può fare questa sfida e poi a Esther Maragò, scusate, continuo a chiamarla Esther, la dottoressa Maragò, così non faccio gaffa. Esther, eh sì, perché siamo amici, quindi si può. Proprio un po' dal tuo punto di vista di chi si occupa di scrivere di sanità praticamente quotidianamente, perché si chiama quotidiano sanità, quindi quello è. Che tipo di visione hai su questo aspetto? Prego, Dottor Tonini, cominciamo un po' a chiacchierare adesso. Grazie. Non voglio vedere se la faccia. Ah, è proprio incattivito, eh? No! 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 Bene, bene, bene. Io non so se risulterò antipatico o simpatico, ma so che non voglio lasciare l'aula avendo detto solo ovvietà. Questo non lo voglio fare, lo vorrei evitare. Chi ha scritto il titolo? Chi ha scritto il titolo? Perché nel titolo ci sta tutto. No, soprattutto la parte neretta del titolo, quello ineretto. Aus are vasta Romagna. Posso chiedere chi ha scritto il titolo? Lei? No, ma io non l'ho visto, però va bene. Così, io, ecco, è colpevole di tutto. Ok. È bello, sta diventando un giallo questo nostro obiettivo. Eh sì, voglio trasformare così, sì, perché se no, ho detto le obiettive. Allora, perché nel titolo ci sono una serie di suggestioni barra contraddizioni barra altre cose. Noi non ci chiamiamo Aus are vasta Romagna. Così, lo voglio vedere. Se fossi in questo luogo lo manderei a casa su. Allora pensi un po' quando si dice la commessa. Allora vuol dire che i retropensivi ce li ho dentro casa. Il che è ancora più grave. Eh ma quando si rischia, si rischia, poi si va incontro anche a guai, a volte. Allora, ma facciamo finta che la paternità adesso per un attimo la lasciamo, mi fa comodo pensare così. Ma tenga lei. Perché con quel titolo lì si può immaginare di guardare indietro, di tornare indietro, di guardare avanti. Ci possono fare molte cose con quel titolo. Perché noi in realtà ci chiamiamo Aus della Romagna. Ne unica, ne niente. Ci chiamiamo Aus della Romagna. Non Aus area vasta. L'area vasta era una cosa di prima, che c'era prima, che potrebbe ritornare sotto diverse spoglie, mutate spoglie, il che non vorrebbe dire essere tornati indietro, ma vorrebbe dire trasformare questa esperienza che parte, si evolve e poi evolve in un'altra cosa ancora. Ma non nemmeno un attimo il titolo, magari avremo modo di tornare. Allora, intanto due considerazioni su questa esperienza caricata di queste responsabilità, professore. E a distanza ormai di quattro anni e passa, mi prendo la paternità anche del primo anno, porto a casa tutto, perché è giusto che sia così, a me sembra di poter dire, di poter fare due affermazioni importanti. La prima è che questa esperienza ha retto al rischio, all'urto dell'impatto economico. Che cosa voglio dire? Voglio dire che non era affatto scontato che gestire, non sto facendo riferimento a me, siamo 16 mila, che sia chiaro, ma gestire e tenere in asse un'azienda con un bilancio di 2 miliardi e 500 milioni di euro e essere oggi un'azienda sana che non fa disavanzo, credo che sia un fatto comunque da ritenere positivo. Non era scontato. Possiamo partire con derive di altra natura. Quindi il primo elemento che vorrei sottolineare è la tenuta del progetto dal punto di vista dell'equilibrio economico-finanziale. E' vero che la Romagna è sempre stata fondamentalmente virtuosa a tale riguardo, tranne piccole crisi sui Balcani che abbiamo avuto tutti. I riminesi li rinfacciano i forlivesi, i forlivesi li rinfacciano i ravenari. In realtà noi che abbiamo 60 anni ne abbiamo vissute tutte queste crisi sui Balcani. Quindi come sempre siamo tutti uguali. Era comunque una realtà economicamente in equilibrio, in ogni caso ci siamo rimasti dentro questo equilibrio. E questa è la prima sfida. Mi sollecitava le sfide. La seconda considerazione di fondo, dopodiché in mezzo a queste considerazioni c'è tanto d'altro, lo capisco, ma verrà fuori, è che questa esperienza ha retto all'urto della fiducia. Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che questo posto del mondo, la Romagna, tutta insieme, è un posto dove i cittadini, nei confronti della loro sanità pubblica e privata, hanno un livello di fiducia che in questa regione virtuosa non hanno altri territori. Su 100 ricoveri di cittadini romagnoli, 91 di questi ricoveri, i cittadini romagnoli li fanno nelle strutture pubbliche e private della Romagna. Non è un segnale di fiducia? Non lo vogliamo interpretare come un elemento di grande senso di appartenenza e di fiducia nelle proprie istituzioni, in questo caso sanitarie? Bene, quando eravamo quattro aziende diverse e disperse, raggiungevamo il 90,2 e adesso siamo al 90,6. Non sto a rimarcare. Siamo lì! Bologna è dietro! Ma non perché io voglio fare la corsa... Io sono competitivo, è che sia chiaro. Per me è importante vincere, non è partecipare. Però, punti di vista. Senza scorrettezza, giocando pulito, con la maglia con colori nitidi. Questo è chiaro. Allora, non voglio qui, però voglio dirvi che questa sfida, che poteva essere molto pericolosa anche dal punto di vista della percezione dei cittadini, da questo punto di vista è una sfida... non oso pronunciare la parola vinta perché mi fa paura, ma stiamo tenendo, stiamo dignitosamente tenendo e il grado di fiducia e la percezione non è calata, anzi è levemente cresciuta, per effetto del contributo della sanità pubblica e della sanità privata. Mi sembrano due faccendine non da poco, non mi sembrano due particolari, non vi ho raccontato di due elementi secondari. Sono due autostrade che bisogna continuare a battere e che rappresentano una iniezione di fiducia per chi lavora, tutti quanti, attorno a questo progetto. Arrivato a questo punto, prendo a riferimento alcune cose che ha detto il professor Bottari, perché mi sembrano particolarmente significative e le vorrei rimarcare. La prima, la più importante di tutti, professore, la sanità è solo pubblica, ha ragione, ha ragione rispetto all'interpretazione che lei ha dato, perché il concetto di sanità non può essere che declinato in un contesto di interesse generale, come ha detto lei, quindi pubblico, perché siamo tutti pubblico. Qui vado oltre la distinzione legata al ruolo specifico, ha ragione, la sanità è un concetto bipartisan che va oltre, è solo generale ed è solo pubblica. Su questo bisogna essere chiari, molto chiari. E poi lei ha detto un'altra cosa, e qui lancio la prima, benevola, assolutamente benevola e costruttiva provocazione. Lei ha detto, mi correggasi io, distorco, se faccio il furbo, perché io il furbo non lo voglio fare, il privato deve incitare il pubblico, incita il pubblico. Lei ha usato questo termine, e io a questa cosa ci credo, ma badate bene, un conto... Un conto è incitare, un conto è immaginare di sostituirsi, sono due cose molto diverse. Attenzione, sono due cose molto diverse. La mia non è un atto di accusa, la mia è una constatazione di uno che lavora nella sanità da 60 anni e coglie degli aspetti. Incitare, stimolare, concorrere dal punto di vista del bene pubblico, dell'interesse pubblico. Ma non sostituirsi, perché sennò quel concetto che diceva lei all'inizio, dove va a finire, è un'altra cosa. L'italiano io non lo parlo bene, però lo capisco, sostituirsi no, non va bene, perché tradisce quel concetto che ha detto perfettamente lei. Allora noi bisogna che la troviamo una strada nel mezzo, perché se siamo intelligenti la dobbiamo trovare, che non ceda in nessuna tentazione e permetta di mettere insieme le anime in maniera virtuosa per il bene pubblico. Possiamo non cercarla questa strada. E secondo me, in fondo, l'operazione che stiamo provando a fare con questo modello ha come primo obiettivo questo, cioè quello di superare i confini, ma non solo quelli delle quattro campanili cesena, no, i confini in senso lato. Questa è la sfida vera. La sfida vera è che eravamo in deficit, no, noi non eravamo in deficit. Se l'abbiamo pensata e fatta perché eravamo in deci, no, assolutamente. Vi posso garantire che la Romagna era in equilibrio. L'abbiamo fatta per altri motivi. Questo che vi sto dicendo, che sto cercando disperatamente di comunicarlo, quello di superare tutti i confini, materiali ed immateriali, ideologici e di primato, questa è la vera sfida. In sanità non c'è un primato, c'è il concorso. E quindi un atteggiamento che deve favorire il concorso. Nelle cose, io adesso ve lo trasmetto come concetto, poi dopo avremo tempo, domande, entriamo nel merito. Però il tema è questo. E quello che ho cercato di sottolineare, la sanità è solo pubblica come concetto, come azione, come interesse generale. Il privato deve svolgere un ruolo importantissimo, di concorso, di concorso, non di competizione, quindi non di sostituzione. Questa è la mia visione. E bisogna trovare un punto di equilibrio perché questo che abbiamo, come dire, sottolineato a parole, si possa concretizzare. E i temi su cui si può concretizzare, gli oggetti, sono tantissimi. Ed è quello che in fondo, Bruno dirà meglio di me, stiamo facendo già adesso. Cioè io non è che sto esprimendo un concetto teorico. Noi già adesso e da tanto tempo, e anche verso questo istituto, stiamo traducendo le cose in questo modo. Dopo faremo degli esempi. Dico solo che quella tentazione a superare questo equilibrio, secondo me, non porta a niente di buono. Oh, questo è un punto di vista, io non posso sbagliare. Non porta a niente di buono. C'è spazio per tutti, ma non in un'ottica competitiva o sostitutiva, ma in un'ottica diversa. Questo in fondo è la sfida più importante. Il resto viene dopo. Se ci troviamo d'accordo su questo e non abbiamo retropensieri, il resto viene dopo e lo facciamo. Se invece affrontiamo questa vicenda con quest'idea che sono più bravo io, ma sono più bravo io, non va bene. Siamo bravi tutti. Non è vero? Non mi importa. Noi dobbiamo partire con questo concetto. Perché se sono più bravo io, io te ti dico assieme, però non penso che te sia bravo. E questo nega la base fiduciaria per affrontare grandi file. che si perdono. Grazie. Ci sono parecchi spunti e c'è questa parola chiave che io percepisco di integrazione che secondo me è un po' quella che deve guidare poi anche tutto questo percorso che stiamo cercando di fare. È molto bello l'entusiasmo, è molto bella anche questa visione di sanità pubblica come obiettivo finale di uno Stato, di un insieme di persone, di una regione, di una zona geografica, eccetera, è anche bello avere meno confini ed è molto positivo che comunque le migrazioni, che poi sono un tema che per la sanità pubblica rappresentano oggi un problema, per la Romagna siano quantomeno estremamente contenute visti i numeri. Esther, te cosa ne dici? Perché voi ne scrivete spesso di questi modelli di integrazione. Allora, devo dire innanzitutto che mi stai dando un compito estremamente arduo perché riuscire in qualche modo a sintetizzare quella che è la sanità italiana credo che sia uno dei compiti più difficili che esistano perché, lo sappiamo tutti quanti, è un puzzle molto complicato. Mi piace pensare alla sanità come un, alzi, al servizio sanitario nazionale, come un corpo. In questo momento la scienza si sta concentrando molto sul microbiota, va molto di moda. Questi microorganismi che lo compongono e che in qualche modo influenzano anche la nostra salute. E devo dire che è un paragone che ci sta a tutto quanto. Perché quello che noi vediamo, almeno avendo una misura appunto a 360 gradi di quello che accade in Italia, e vi rendisco una cosa, voi lo sapete, estremamente complessa, e tra un microbiota e un altro, ci possono essere delle differenze sostanziali e ognuno esercita un ruolo che può scalzare l'altro e far esplodere il sistema. Quello che noi osserviamo è, innanzitutto io lo dico sempre, che la sanità pubblica è uno dei pochi settori nella pubblica amministrazione che realmente si è rivoluzionato, che realmente ha fatto una spending review costruttiva e credo che questo non va dimenticato rispetto probabilmente a tantissimi altri settori che invece stentano. Ciò detto, riuscire in qualche modo a uniformare questi vari corpi e microbi che in qualche modo lo compongono è estremamente complesso. si parla in questo momento, anzi, questo è la casa in qualche modo di quello che è ad esempio di una integrazione tra il pubblico e il privato accreditato. Io sono d'accordo con lei, dottore, la sanità deve essere pubblica, ma noi ci dimentichiamo anche che il privato accreditato è entrato nel nostro sistema nel 1992, quindi se oggi compiamo 40 anni, il privato accreditato ne compie 26, quindi insomma di anni ne sono passati, però quello che noi osserviamo è che questo collante, quello che in questa saldatura tra pubblico e privato in realtà non c'è stata. Se io vado a analizzare quello che è avvenuto nelle varie regioni, quello che posso dire è che voi siete in qualche modo una realtà felice per vari motivi, quindi voglio entrare, ripeto, sto cercando di parlare a 360 gradi ma mi rendo conto che è estremamente complesso. Il problema dell'integrazione è fondamentale e questa integrazione però trova ancora dei limiti essenzialmente di carattere ideologico in primis perché ci sono ancora delle resistenze che sicuramente in Emilia-Romagna avete abbattuto perché l'Emilia-Romagna è sempre stata una regione o la Romagna è sempre stata una regione molto attenta all'impresa, cioè fa parte del DNA di questa regione e quindi non viene mai sottovalutata. Dopodiché l'integrazione paga in qualche modo cioè perdonatemi questa appunto necessità di coordinamento di collante tra il pubblico e il privato paga in qualche modo anche un secondo problema che è quello di mettere mano alla riorganizzazione del pubblico che come ha detto lei non è facile in continuo di venire cioè prima il sindaco parlava del fatto che tagliare riorganizzare anche eliminare i piccoli ospedali è complesso quindi devo dire che voi siete una realtà che in qualche modo è riuscita a intervenire siete un unicum in questo quindi ero molto curiosa effettivamente di sapere come poi tutto quello che voi realizzate può essere esportato certo devo dire che anche il privato accreditato deve in qualche modo fare una sorta di mia colpa per alcuni aspetti perché molto spesso si è arroccato su propri convincimenti in questi anni ho seguito sono vent'anni sono anziana anche io non sono insomma non c'ho i quarant'anni del servizio sanitario nazionale ma devo dire che la seconda riforma me la sono fatta tutta quanta quindi dall'abbindi in poi ne ho viste ne ho viste tantissime e il privato accreditato deve un po' forse eliminare in qualche modo alcune resistenze che mi rendo conto che fanno parte anche in qualche modo delle necessità e di quello che è il DNA cioè dell'impresa e fare fare profitto quindi più volte in momenti in cui ho seguito in questi anni la sanità privata i rapporti dell'IOP quello che pesa è in qualche modo il fatto che ci sia una disparità in quelle che sono le attribuzioni economiche al pubblico e il privato e quindi in tutta questa visione chiaramente riuscire a conciliare tutto questo è complesso è estremamente complesso e non si può in qualche modo neanche paragonare una realtà o un'altra perché le esigenze sono tantissime lei dice area vasta lei ha parlato di non siete un'area vasta però se vogliamo ci sono tante esperienze in Italia anzi alcune esperienze non tantissime in Italia che hanno dato frutti importanti guardiamo la regione Marche che è stata forse credo una delle prime a creare una grande scusatemi io mi rendo conto che forse tocco tantissimi argomenti ma riuscire a sintetizzare è veramente complesso poi magari ci proviamo è stata una delle prime regioni a concentrare in qualche modo a cercare di razionalizzare ci ha messo svariati anni perché credo che risalga addirittura al 2003 poi dal 2011 in poi è riuscita a decollare non senza tante tantissime difficoltà va anche detto che le Marche in questo momento sono una regione benchmark insieme al Veneto e all'Umbria quindi poi può essere criticabile o meno in questo modo quindi qualche qualcosa l'ha fatto però se vogliamo anche le esperienze che sono state realizzate in Toscana dove sono stati applicati questi principi invece devo dire che qualche scricchiolio iniziano a mostrarlo noi abbiamo pubblicato un anno fa che mi ha incuriosito molto un commento di un direttore adesso non ricordo quale provincia della Toscana che diceva benissimo stiamo razionalizzando però noi stiamo pagando anche una serie di problemi di coordinamento di attività e soprattutto quello che vediamo che c'è uno scollamento dei cittadini rispetto alle istituzioni quindi è un diciamo che è veramente un organismo in continuo divenire riuscire a trovare la quadra è sempre molto complicato però io quello che dico ecco questo in qualche modo per tirare le somme è che quelli che in qualche modo sono gli elementi cardine che devono consentire al nostro sistema di andare avanti sono in primis appunto l'integrazione quindi ognuno deve fare la sua parte sia al pubblico sia al privato accreditato il coordinamento che chiaramente in questo caso è nelle mani direi dovrei dire del ministero ma forse delle regioni soprattutto in questo momento in cui ancora cerchiamo di capire dove stiamo andando considerando che poi c'è anche una spinta fortissima alle autonomie non ci scordiamo che prima della chiusura dell'ultima legislatura tre regioni hanno sottoscritto un patto molto forte per andare verso queste autonomie regionali e quindi il terzo elemento è quello della verifica fondamentale perché se non si verifica quello che viene fatto non si va da nessuna parte le verifiche devono arrivare sia da un punto di vista organizzativo e poi entrando sempre di più chirurgicamente nelle attività peculiari di ogni azienda noi abbiamo degli strumenti enormi che ci consentono veramente di riportare in carreggiata questa macchina e quindi completare quest'opera di risanamento di questo servizio sanitario nazionale non tocco il problema dei finanziamenti non tocco il problema della sostenibilità perché altrimenti non ne usciamo fuori sostenibilità sostenibilità finanziamenti poi siano gli aspetti forse più complessi bisogna anche fare attenzione a che non mi sembra sia il caso qua perché ha detto siamo in linea fondamentalmente da un punto di vista economico però bisogna pensare che a livello nazionale poi tante scelte organizzative di governance di decisione di spesa vengono chiese su caso tante scelte che sono anche sull'attività poi del professionista e sulla misurazione del professionista perché anche quell'aspetto è estremamente importante si diceva prima è giusta la competizione però è anche giusto avere dei parametri di misurazione perché poi non è nemmeno corretto per le persone per i cittadini e qua anche il sindaco la politica da un ruolo dire tu hai lo stesso trattamento da tutte le parti anche se attendere questa è la cosa probabilmente una delle complessità che può avere un'area così vasta chiamiamola l'area vasta o comunque un sistema che quanto più è vasto è proprio quella di avere dei parametri misurare e poi poter dare al cittadino quello di cui ha bisogno volta per volta e caso per caso comunque il dottor Biaggi ha tante di quelle risposte da dare che secondo me forse forse potreste anche un po' accapigliarvi però magari no così non così in tono perché in realtà si al di là delle battute questa sfida di integrazione questo potenziale modello di integrazione a guida pubblica perché questo su questo siamo tutti d'accordo non è così facile anche dal vostro punto di vista diario diciamo che i miei rapporti con Marcello sono sempre stati estremamente prank a volte anche muscolari però sapevo che saremmo arrivati però sempre prank e ci siamo detti le cose come la pensiamo eccetera io vorrei fare ovviamente io oggi sono in una posizione un po' complessa perché sono devo parlare come amministratore di Maria di Hospital però allo stesso tempo non devo dimenticare che sono il presidente dell'aglio parigionale è anche un ruolo a livello nazionale per cui diciamo posso avere una visione un po' complessiva io volevo partire nel mio ragionamento da quello che diceva Carlo Botte 40 anni fa questo paese ha fatto una scelta ha fatto una scelta di un sistema sanitario di tipo beverage che vuol dire un sistema universalistico un sistema universalistico basato sull'equità d'accesso e su un finanziamento della fiscalità generale questo è un modello che io credo che sia stato uno delle grandi conquiste che io credo che anche l'associazione delle strutture private accreditate ha sposato e ha interesse vuol difendere naturalmente in un momento in cui probabilmente il sistema deve considerare i cambiamenti epidemiologici e le nuove realtà che noi ci troviamo di fronte che saranno le sfide futuri quindi si è così rapidamente discorso del nuovo ruolo degli ospedali che saranno sempre più ospedali tecnologicamente avanzati con vigenze più brevi con grandi rapporti e integrazioni sul territorio si è parlato del problema dell'onautosufficienza dell'invecchiamento della popolazione quindi della necessità di garantire un invecchiamento in migliori qualità di vita proprio per ridurre al massimo i problemi della spronicità dell'onautosufficienza il problema epidemiologico delle famiglie che cambiano giustamente si parlava che 20 anni fa erano famiglie allargate dove il nonno comunque aveva sempre qualcuno che lo badava e che anche se aveva un problema di salute c'era sempre qualcuno che gli dava la pasticca o gli faceva la puntura oggi purtroppo queste famiglie non esistono più e quindi l'anziano deve a volte andare al pronto soccorso in ospedale quindi su questo quadro generale io credo che l'esperienza e su questo sono d'accordo perfettamente con Marcello quando dice noi siamo Asda Romagna l'area vasta è passata potrà rivenire però noi siamo Asda Romagna quindi un'area che è una delle aree a maggior popolazione credo del territorio italiano dove dobbiamo e possiamo costruire un laboratorio di innovazione e collaborazione tra me piace dire tra gestori pubblici e gestori privati di un'attività fondamentalmente essenzialmente pubblica nel suo indirizzo che può essere di grande interesse e anche di stimolo per quanto riguarda altre aree sia della nostra regione che anche probabilmente sul territorio nazionale perché in Emilia Romagna quest'idea di tendenzialmente di cercare di essere sempre i primi della classe e di essere un po' d'esempio e di guida al resto delle regioni ce l'abbiamo sempre avuta e anche se io non sono Emilia Romagna però oramai sono adottato e avendo passato più tempo in Emilia Romagna però diciamo che è una tendenza che è un po' insita nella nostra nella direzione di questa e questa regione quindi quali possono essere le forme di sfida di integrazione e di rapporto e io credo se è vero che il privato debba essere da stimolo nel pubblico nel senso di essere di stimolare a migliorare sempre la qualità eccetera eccetera che non debba essere sostitutivo ma io credo perlomeno da quello che io so nessuno delle strutture private accreditate si aspetta di essere o vuole essere sostitutivo nello stesso tempo nello stesso tempo credo che il privato accreditato sia una componente che debba essere considerata anche all'interno della programmazione in termini di strutture e tecnologie per cui magari a volte certe ripetizioni e certe proprio ripetizioni sia di tecnologie che di attività che a mio parere sono ancora frutto di bias ideologici e professionali che sono sicuramente in fase di lento superamento però ancora non è che tutto gira venendo a tre punti fondamentali allora oggi la Romana copre o può coprire in maniera integrata due dei punti maggiori di quello che è oggi i grandi problemi sanitari che sono sia il cadiovascolare e quindi la proposta la volontà ha la voglia di questa struttura di proporsi come IRCS che però non è stand alone è un IRCS profondamente integrato con la rete cardiologica dell'area perché naturalmente un IRCS che lavora in maniera integrata su un territorio di un milione e trecentomila persone ha la potenzialità di sviluppare progetti di ricerca non solo clinici ma anche organizzativi gestionali di estrema importanza io credo che questo sia importante è una proposta che noi abbiamo avanzato da lungo tempo che la mia impressione è che oggi il vento sia cambiato e conseguentemente da una parte la disponibilità a una maggiore integrazione una maggiore volontà d'altra parte anche una certa disponibilità da parte della politica intesa sanitaria eccetera la prossima settimana andrà in assemblea legislativa la possibilità dell'interpretazione della legge sulla possibilità di fare ex privati in Emilia Romagna questo è naturalmente l'inizio di un percorso legislativo percorso che però da un punto di vista di integrazione tra le strutture è già iniziato è già iniziato tre o quattro anni fa è già iniziato con percorsi condivisi è già iniziato con attività condivise è già iniziato in maniera direi concreta e per certi versi è stato anche esempio a altri percorsi che si sono poi attivati all'interno della regione altro punto è l'integrazione la disponibilità e qui io parlo non di Maria Cecilia ma parlo dell'intero comparto sanità privato accreditato a condividere soluzioni per le liste d'attesa chirurgiche noi abbiamo già avuto in questa area un'ottima esperienza sulle liste d'attesa per l'ambulatoriale in cui c'è stata una collaborazione in cui si è discusso però alla fine questo devo dire è una delle cose che maggiormente apprezzo tutto sommato dei rapporti con Marcello che magari si litiga si urla si discute però alla fine si fa un passo avanti e questo è poi le modalità magari dipendono anche a volte dai caratteri però l'importante è che si sia sempre un passo avanti quindi su questa partita noi abbiamo visto eravamo presenti la maggior parte di noi al convegno regionale su questo obiettivo abbiamo sentito quello che ha detto l'assessore e io sai bene che ci sono si sta lavorando su progetti modalità per superare questo questo punto perché io credo che sia estremamente importante dare oggi ai cittadini di questa di questa area il messaggio forte che è vero che siamo in equilibrio finanziario è vero che siamo sufficientemente attrattivi e abbiamo una fiducia abbastanza consolidata però noi vogliamo andare avanti vogliamo costruire e dare un forte messaggio che il complesso del sistema inteso come pubblico gestore pubblico e gestore privato accreditato insieme si preoccupano e cercano di risolvere i problemi e di dare una risposta sufficiente in un'area che è praticamente può diventare veramente un cluster sanitario perché ha tutte le conseguenze è come dicevi che è giustamente compressa nel senso che le distanze sono relativamente corte siamo in una posizione geografica che ci permette di intercettare anche tutta una serie di flussi che praticamente della dorsale adriatica che oggi magari a volte ci scavalcono e vanno verso altre regioni e terzo punto io credo che in questo ritorno un pochino in quello che può essere il gruppo Villa Marina io credo che noi possiamo anche fare dei ragionamenti per esempio con l'ist di meldola perché perché noi possiamo contribuire con loro a costruire questo network cancer net come oggi è di moda cioè questa rete oncologica che utilizza strutture un po' su tutto il territorio e quindi anche questo è un altro progetto su cui stiamo discutendo con cui te sai che ci stiamo ragionando insieme e cercando proprio perché io credo che oggi la componente privata accreditata e ora mi sono concentrato solo e poi finisco però ora mi sono concentrato fondamentalmente sulla parte ospedaliera non ci dimentichiamo che noi abbiamo anche strutture che si occupano di assistenza territoriale che si occupano di riabilitazione cioè è un complesso in questa area che può veramente integrandosi col pubblico fare di questa dell'area della usla romagna un esempio per tutti è una sfida che come sai io ogni tanto ti lancio credo che superati i momenti difficili di perché hai preso una bella patata quindi oggi penso che si possa portare avanti questo ragionamento come ripeto dobbiamo ancora ragionare e superare alcuni bias ideologici alcuni anche resistenze professionali al nostro interno però io credo che le le aziende debbano prendere veramente in mano la governance del sistema questo è se pensiamo solamente a requisiti nuovi requisiti di accreditamento tutto si sposta dalla governance professionale alla governance aziendale che è quella che dà gli indirizzi che verifica gli indirizzi e dà il la ragione dell'essere del sistema superando un po' alcune particolarità ecco io credo che questo sia una grossa sfida che ci che possiamo affrontare che vogliamo affrontare insieme che noi ci siamo ci siamo siamo pronti a discuterne a ragionare anche a non essere d'accordo su alcuni punti ma l'importante l'idea è che noi possiamo fare non uno ma forse due o tre passi avanti anche in tempi abbastanza brevi grazie grazie sulla lista sono quasi sicuro sulla lista professor Bottari proprio un minuto poi due o tre domande da voi e poi facciamo un rapidissimo giro di nuovo noi per vedere un po' da questi spunti uno professore se ce la fa uno se ce la fa le due sollecitazioni emesse dall'intervento della tutoressa Maragalli sì in Italia Romagna in effetti noi ci troviamo di un po' 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 dicevo due sollecitazioni della dottoressa Maragalli in effetti in Emilia Romagna ci troviamo in una situazione eccezionale rispetto al contesto nazionale e lo vediamo da tanti punti di vista e non per nulla faccio l'esempio di Bologna non per nulla la Philip Morris è venuta a Bologna a investire in due nuove aziende e assumere 1200 persone non per nulla la Lamborghini ha deciso di produrre il SUV Lamborghini a Sant'Agata ampliando l'azienda e assumendo altri 600 dipendenti non per nulla è arrivata la Sbass e tante altre aziende ma perché tutte queste aziende investono in Emilia Romagna perché ci sono degli ottimi rapporti anche sindacali non c'è mai stato un rapporto conflittuale fra l'associazione degli industriali e la parte pubblica così come nella sanità io non ricordo e Bruno lo può confermare che ci siano stati mai rapporti conflittuali fra l'Aiop e la regione ad esempio qualche volta c'è stata qualche frizione ma è stato sempre superato questo non avviene nelle altre regioni proprio perché qui c'è un ottimo rapporto fra il pubblico e il privato che si è consolidato nel tempo soprattutto per quanto riguarda le relazioni sindacali poi certo queste aziende vengono anche e lasciatemelo dire perché c'è l'Università di Bologna e l'Università di Bologna è quella che influisce enormemente perché dà la mano d'opera a queste aziende gli ingegneri meccanici elettronici eccetera e quindi preferiscono installarsi lì dove trovano già del personale formato anziché in altre sedi seconda sollecitazione chiudo subito i 40 anni abbiamo conquistato realizzato però abbiamo anche qualche criticità da affrontare che le ultime leggi cercano di mettere in risalto si è deteriorato in questi 40 anni il rapporto fra il medico e il paziente non c'è dubbio rispetto a quello che era 40 anni fa il rapporto si è andato deteriorando ecco le nuove leggi che sono state approvate nel 2017 l'ultima che è entrata in vigore nel 2018 sono due leggi che servono a ricostituire un rapporto fra il paziente e il medico la nuova legge sulla responsabilità la cosiddetta legge Gelli e dovrebbe portare quindi a un rapporto diverso e quindi cercare di diminuire quell'enorme contenzioso che si è sviluppato in questi ultimi 15 anni e soprattutto poi la legge sul consenso informato sulla disposizione di anticipazione dei trattamenti sanitari è quella che dovrebbe ristabilire il rapporto fra il paziente e il medico quindi se da questo punto di vista i 40 anni hanno migliorato la situazione hanno però anche deteriorato il rapporto fra il medico e il paziente e oggi siamo di fronte alla sfida di recuperare questo rapporto per migliorare sempre di più quindi il nostro livello di assistenza grazie grazie professore allora domande brevi e risposte altrettanto brevi perché c'è qualcuno che gira col microfono eccolo qua partiamo di qua poi là poi qua basta che sia asciutto poi va bene nel 68 nel 68 ero studente di medicina mio padre era primario più lungo in Romagna te sai Carlo bene che ho vissuto tutto lo scambio di opinioni fra medicina e la politica della nostra regione negli ultimi 50 anni allora io vi voglio dire questo prendo spunto da quello che ha detto la dottoressa Maragò il problema è che la gente perché io faccio il dottore e parlo con la gente la gente si è scollata o si sta scollando non tanto Carlo dai dottori ma purtroppo dagli ospedali io che sono un anarchico liberale di Gopetti ho il concetto della res pubblica ben presente io ho vissuto sempre del concetto della res pubblica non del privato questo voglio che sia ben chiaro la fregatura grande oggi è che abbiamo perso il concetto della res pubblica cioè dell'uomo che è alla base del nostro lavoro di medici o di amministratori della medicina che dobbiamo cercare il bene dell'uomo perché il bene dell'uomo è stato sopravvanzato dal bene di che cosa Marcello lo sa benissimo lo sappiamo lì su tutti non dell'uomo ma di interesse e questo è il problema il problema grosso stanno facendo fuori il Sant'Orsa la carro tu lo sai benissimo ed è il mio ospedale in cui sono entrato 46 anni fa perché? perché non c'è più il concetto del merito Marcello è lì che dobbiamo tornare cioè se noi vogliamo veramente curare bene i malati assistere bene i malati i malati gravi meno malati tutto quello che vuoi la gente cioè l'uomo dobbiamo tornare al concetto del merito quando hai detto prima incitare non è incitazione è confronto io mi sono confrontato per tutta la vita con tutto il mondo gli americani e i cinesi per essere il più bravo è così che si fa ma in modo onesto mi spiego cioè io produco pubblico e la mia pubblicazione dimostra che sono più bravo di un americano è questo il punto ed è lì che si è perso e si è perso caro Carlo da parte nostra universitaria come dall'altra parte perché tutti abbiamo ceduto al concetto del merito per andare al concetto dell'interesse questo è il canchero di oggi ragazzi ci siamo abbiamo capito il messaggio il messaggio è molto chiaro perché Esther poi deve sentire io devo andare via perdonatemi devo andare via quindi vi ringrazio un applauso per l'interesse io vi voglio dire un'altra cosa professore il rapporto medico-paziente in questo momento è sicuramente messo a dura prova per tanti fattori organizzativi perché lo sappiamo perfettamente il blocco del turno vera sicuramente messo in ginocchio il comparto provocando a ricaduta tutta una serie di criticità estreme che hanno gettato benzina su fuoco dopodiché io lo dico scusatemi la banalità ma noi dobbiamo combattere anche contro dottor Google e professor Facebook che non è poco e questo non lo dimentichiamo quindi se non c'è veramente un ritorno e una riappropriazione della credibilità di quella che è la professione medica e soprattutto di quello che è sono le istituzioni io credo che il paese si imprega arrivederci a tutti grazie questo dato è estremamente importante perché i medici c'è anche una domanda come volete prego si ah va bene prendi a portano loro tranquilla prego prego mi chiamo Sergio Seganti scusi scusi c'è il microfono qua arriviamo mi perdono no ma il microfono non ne ho bisogno no no insomma perché sta cominciando allora mi riferisco intanto grazie e complimenti complimenti al professore ecco per il suo libro che è sicuramente un contenuto molto importante e interessante in un momento così profondo e della nostra della nostra sanità condivido anch'io ecco tutti penso che non abbiano che non siano d'accordo sul fatto che la sanità è una sanità pubblica e tale deve rimanere e purtroppo non è autosufficiente e ce ne stiamo rendendo conto e quindi un pochino e ne stanno approfittando anche le assicurazioni private quindi su questo ci dobbiamo rendere conto che il futuro sarà un po' anche così con l'integrazione ecco della delle delle assicurazioni private il ruolo del privato del privato ecco che esercita l'attività ecco della gestione sanitaria in particolare quella ospedaliera io vorrei ecco al Tortonini porre una domanda una precisazione e dice ha citato due parole una competizione e l'altra integrazione il ruolo ecco del privato non sostitutivo immagino non sostitutivo che si volesse rivolgere solo al privato che non deve essere sostitutivo del pubblico perché questo è il concetto ecco che io mi sento ripetere da sempre cioè che il privato in buona sostanza non deve sostituire il pubblico non deve essere sostitutivo ma io vorrei capire anche perché il pubblico può essere sostitutivo del privato e non viceversa ecco questo è una perché lo chiedo lo chiedo lo pongo come problema da imprenditore è perché io faccio investimenti capisci quindi faccio investimenti studiando anche quello che può essere il mercato io quello che ho fatto nei miei anni di attività imprenditoriale è stato quello di essere integrativo però di meritarmi il posto di meritarmi è la mia funzione una volta che mi sono meritato la mia funzione la mia funzione funziona eh e dall'altra parte il pubblico decide ecco di sostituirmi ma io quale garanzia io come imprenditore che ho fatto il mio lavoro l'ho fatto bene da un punto di vista economico e sono stato anche vantaggioso e per quale motivo devo essere sostituito questa è una domanda ecco che pongo al dottor Tonini e non vorrei ecco che questo rimanesse soltanto nel tempo un fatto ideologico e l'altro è la competizione io credo che il mondo debba competere e tutti quanti noi gli uomini le imprese tutti devono competere se non c'è competizione e c'è la cosa rimane così bloccata orizzontale se non c'è competizione e non c'è qualità a mio avviso quindi la competizione deve essere magari non concorrenza io farei una differenza fra concorrenza e competizione ma la competizione ci deve essere deve essere fra medici medici fra strutture private strutture pubbliche prima è stato citato il privato è un po' una spina nel fianco al pubblico ma è anche viceversa cioè io mi sento punto tutti i giorni dal pubblico perché il pubblico è bravo cioè noi abbiamo un pubblico che è bravo capisci quindi io tutti i giorni mi sento in competizione e mi sento punto dal pubblico quindi io vorrei ecco che questi principi questa base ecco di competizione e di imprenditorialità è vero prima è stato citato anche il privato vuole guadagnare e pensa di guadagnare in sanità certamente è un imprenditore l'importante è che non costi più del pubblico anzi sappiamo bene che il privato costa meno e che faccia la sua attività in modo operativo corretto e qui aspetta il pubblico controllare il privato ecco io la pregherei in particolare di chiarirmi bene che cosa intende per sostituire mi pare di avere già espresso la sufficienza grazie aspettiamo ancora la domanda perché no il signore è là che cercherà lo dà ma perché aveva già iniziato scusate allora dicevo arriva il microfono calma eh ci vuole perché mi muovo molto scusate credo Sergio Seganti sono stato per 38 anni tecnico di radiologia medica all'ospedale civile di Lugo e volevo ricordare un po' la storia di questo territorio non mi legga il libro come il professore no no ah ok 1977 ospedali in 25 chilometri nel 98 1998 come dipartimento di emergenza è rimasto solo l'ospedale civile di Lugo quindi sei ospedali sono stati abbattuti perché ci fu anche la legge di Lorenzo che recitava che gli ospedali con meno di 120 posti letto vanno riconvertiti senza dire ai noi in che cosa perché se avesse detto fate degli ambulatori ci avremmo guadagnato tutti perché le strutture erano già esistenti andiamo avanti dicevo dal 98 l'ospedale di Lugo rappresenta l'unico dipartimento di emergenza perché la struttura privata non è obbligata ad avere il pronto soccorso generale e la rianimazione generale che costano soldi pubblici a questo ritorno al 98 dal 98 10 anni dopo cioè nel 2008 quando io sono andato in pensione da due medici di pronto soccorso più il terzo no no la domanda arriva ci vuole la storia è lunga ma perché altrimenti tra un po' scappiamo tutti allora è un problema faccio faccio presto allora tre medici uno dedicato all'ambulanza veloce ok ne è uno di servizio nelle 12 ore notturne e uno per l'ambulanza veloce che è sempre fuori totale un medico per 105.675 abitanti è poco e questo non è più dipartimento di emergenza siamo sicuri di essere ancora dentro la legge ce l'ha dirato Nini sentiamo la domanda anche qua ce l'ha dirato Nini lo promette ce l'ha dirato un numero esatto 105.600 molto brevemente 20 anni fa il sistema proprio qui in questo territorio fu sussidiario tra pubblico e privato nel senso che il pubblico decise di fare un accordo fu il primo in Italia sull'attività di emodinaica l'OSL 36 di Lugo quella di Ravenna e quella di Faenza a dimostrazione che in questo territorio la cultura di impresa sociale ospedaliera è consolidata da tempo ora i cittadini sono sempre più informati sono sempre più esigenti e diffidenti si è anche capito dai vari interventi allora chiedo una domanda molto secca grazie a Dottor Tonini e anche a Dottor Biagi concretamente potete fare un qualche esempio concreto su come si può concretizzare davvero la collaborazione cooperativa o competizione cooperativa tra pubblico e privato tra ciò che è bene del pubblico ciò che è il meglio del privato sia nell'area della Romagna ma concretamente anche qui che siamo in bassa Romagna potete rispondere su questo avete dato dei compiti a casa complessissimi io partirei dal Dottor Tonini chiedendogli prima tutte le risposte quindi in un minuto e mezzo no ormai siamo rilassati vedete sta seduto non c'è più allora proprio col microfono ok Presidente rispondo con una domanda ma poi rispondo anche con delle risposte mi può fare esempi in questi ultimi dieci anni dove l'abbiamo sostituita dove è andato indietro a me risulta che questo istituto abbia avuto una crescita per meriti che sia chiaro per meriti molto rilevante agita uno spettro che non esiste non va bene lei non è mai stato sostituito e credo penso ritengo se creiamo le condizioni che abbiamo detto prima non lo sarà neanche in futuro il suo spirito imprenditoriale dopo le ridò la parola anche se a casa sua faccio un po' prepotente ma è così i romani sono così no nel senso che questo rischio se creiamo quelle condizioni che abbiamo detto prima e sulle quali sarò più chiaro adesso non lo correrà mai perché in un contesto dove si agisce per il bene e io da questo punto di vista le lezioni non ne accetto da nessuno poi sbaglio anch'io poi sono condizionato anch'io però io vado da tutte le parti non mi vergogno mai di quel giorno che succederà a quel punto devo andare a casa di parlare anche del compromesso che ho dovuto fare il discrimine è questo se tu lo puoi raccontare allora bene ma se non lo puoi raccontare devi andare a casa è molto semplice come regola molto bene ok allora il punto è questo faccio un'altra considerazione ho detto prima che sono molto competitivo ho detto prima in tempi non sospetti venti minuti fa che voglio vincere più o meno come lei più o meno come lei il guaio è che in un contesto come quello della sanità questo tema della competizione lei professore lo sa bene può portare ogni tanto anche a qualche guaio nel senso che una rincorsa che non sia regolamentata per esempio non è sto parlando di guai teorici e in alcuni casi anche che sono diventati pratici può produrre un guaio che è quello dell'iperproduzione anche perché qui c'è un grande tema irrisolto che è quello dell'appropriatezza i professionisti lo sanno bene noi continuiamo a dire dovete essere appropriati e loro ci rispondono eh sì però lo sappiamo dopo l'esame che era inappropriato prima non lo sapevamo hanno ragione è un tema che non sarà mai risolto quindi per evitare deriva sarà meglio che questo tema della competizione venga almeno moderato almeno moderato ma c'è spazio per tutti ma c'è comunque ancora spazio per tutti allora secondo me qual è la madre non di tutte le battaglie ma la madre è il padre di tutti i ragionamenti per andare d'accordo e crescere insieme perché si può bisogna che il primo punto di chiarezza sia legato alla definizione e al rispetto dei ruoli se le regole del gioco affidano la responsabilità della risposta sanitaria di un territorio al direttore generale di turno il quale deve dare una risposta attraverso i propri mezzi e quelli del privato accreditato e questa cosa bisogna che lui la eserciti si chiama committezza se io ti chiedo Luca che ho bisogno di quella roba lì e ti riconosco capace dico così ma lo sindaco perché tutto la massima non scherzo mai che sia chiaro che io non scherzo mai ok però è venuto un po' ricordare si è parlato poco di politici si è parlato un po' poco sto prendendo un po' troppo la cena un po' troppo ma non ci si deve allargare se io ti chiedo quella cosa Luca e ti ritengo assolutamente adeguato anche più adeguato di me e tu mi devi dare quella cosa non quello che vuoi te no perché se no si crea la confusione se no non si capisce più niente poi io devo essere intelligente devo dialogare con te devo capire il tuo spirito imprenditoriale devo guardare all'interesse collettivo non mi devo far condizionare da niente ma io ti chiedo responsabilmente quella cosa se io ti ho chiesto la cosa sbagliata tu mi devi mandare a casa perché io non sono capace di fare il mio mestiere quello di tutelare i cittadini che tu rappresenti è molto semplice il rispetto dei ruoli è il principio di tutto è il principio di tutto quando si parla a questo livello se poi chi lo esercita non lo esercita bene bisogna cambiarlo ma dov'è il problema non c'è problema e qui vediamo la verifica la valutazione cose che in sanità in generale e nel pubblico in particolare del privato non ho mai provato non ne parliamo neanche perché non esiste non esiste perché essere valutati è una storia che rode un po' a tutti quindi l'abbiamo evitata ah sì ci sono dei punti di caduta vedi quindi non allora e poi vado avanti ma non per provocare vado avanti vado avanti per fare bene per fare bene molto fatica ma ci si può provare il capricorno uno più uno mezzo per me ok allora c'è un altro aspetto professore che mi deve aiutare aiutami università aiutami università c'è un altro aspetto quando si ragiona a questo livello io vengo da Misano vengo da Misano quindi non fatelo dire da me che vengo da Misano un paese di Poccolino poi faccio l'allevatore di asini quindi poca cosa quando si ragiona a questi livelli cioè di cose serie di investimenti di salute dicevi tu prima io sono passato lo so andiamo poche storie poche storie quando tu dicevi che bisogna garantire pari opportunità a tutti i cittadini e che questa è una delle sfide più importanti dopo se un attimo mi divago un attimo divago non divago non divagiamo cioè voglio dire quando facciamo dei ragionamenti di questo tipo gli attori tutti gli attori a pari livello ma con ruoli definiti devono giocare una partita aperta leale in quel campo lì non che in quel campo lì arriviamo con metà dei documenti sopra e la metà sotto quando usciamo una parte dei ragionamenti li andiamo a fare con x come vogliamo e con x e non va bene che partita è questa qui torniamo indietro deve essere per la posta in gioco una partita leale c'è un elemento che manca non è un atto d'accusa è una constatazione faccio io non è che sto dicendo voi tutti noi che è l'elemento della fiducia in un rapporto come questo se non c'è la fiducia e arriviamo lì con i retropensieri dove potremo mai arrivare da nessuna parte ma questo non riguarda il rapporto con il privato riguarda anche il rapporto anche con il pubblico tra il pubblico qual è la difficoltà oggi che abbiamo nel progetto questa di iniettare fiducia di superare i confini l'ho detto un'ora fa il problema non è tecnico non è mai tecnico i problemi sono tecnici ma che problemi tecnici abbiamo? noi siamo la Romagna oh ma stiamo scherzando noi non abbiamo nessun problema tecnico e quelli che abbiamo li possiamo superare noi abbiamo un problema di come dire di ordine superiore di fare in modo che l'approccio il modo di intendere il modo di affrontare il linguaggio le cose non appartengono più al passato dove eravamo divisi cambia cambia l'atteggiamento mentale e qui vengo al discorso delle pari opportunità perché noi lavoriamo per chi sta male siamo qui per chi sta male ok vi trasferisco guardo la dottoressa che è una dei miei e guardo tanti altri vi trasferisco l'esperienza più importante di questi tre anni che non è stata quella di mettere a posto il bilancio che era già a posto già confessato che non è stata quella di occuparsi del fatto che calavamo in fiducia perché siamo rimasti no è quella di avere scoperto in questi tre quattro anni che pur essendo la Romagna è quindi un posto virtuoso facevamo cose così diverse e in alcuni casi così maledettamente diverse ingiustificatamente diverse pericolosamente diverse che l'esperienza adesso è quella di farle tutti uguale ma verso l'alto pari opportunità la dottoressa Lotta faceva una cosa a Ravenna di un certo tipo a Rimini le facevamo un'altra di livello totalmente diverso adesso non dico bene ma a volte è bene no non va bene il valore aggiunto di questa esperienza è questo qui quello di un territorio omogeneo che si può fare e che mette insieme un confronto serio sopra non sotto tra professionisti per fare in modo che le pari opportunità e la ridistribuzione delle chance sia reale perché in Romagna si può tutti non sto parlando più del pubblico qui in questo ragionamento non c'è pubblico e privato ci siamo noi ci siamo solo noi mi sono state fatte altre due domande quella dell'ospedale di Lugo perché allora la cifra mi ha seganti come ti chiami Sergio Sergio senti Sergio lo sai qual è l'unico problema che ci impedisce di metterne due e al limite tre perché io ti capisco te nella porta d'entrata bisogna funzionare l'unico problema che abbiamo e non ti prendo in giro è che non li troviamo hai capito bene che cosa ti dico i medici di pronto soccorso non ci sono ci sono 15 discipline che ce li stiamo litigando i medici non ha funzionato qualcosa a proposito dei problemini dello scrive a 40 anni ecco a 40 anni viene fuori che non abbiamo più i medici un problemino da niente poco tu lo traghetti al pronto soccorso quindi al top ma se anche non hai i pediatri c'è un problemino gli anestesisti i neurologi i neurochirurghi i neurorodiologi ok ci sono 15 o 20 discipline dove ce le litighiamo vergognosamente e questo non è un virus e questo non è un siluro che è già partito e che rischia di affondare il servizio sanitario pubblico non ce li mettiamo perché non li troviamo e troviamo quelli che sono appena usciti non mi devo vergognare io di dire queste cose sono la verità e troviamo gente che non ha grande esperienza sono quelli e voi è giustamente ma io ma al pronto soccorso ci metti quello ma ancora sei scemo ma io sarò anche scemo ma se non li trovo ti richiamo a te non li trovo non li troviamo usciamo con i bandi noi stiamo ragionando così prof domani ci sono gli esami di scuola di specialità usciamo stanotte con il bando così domani mattina il primo che si specializza può essere un modo per sostenere il servizio sanitario pubblico questo sì che è un problema grosso e ce ne sono anche degli altri eh quando tu hai detto prima diventiamo vecchi non è che l'affermazione diventiamo vecchi non si porta dietro niente l'hai arricchito ma qui potremmo fare il rispondo ma la facciamo lo facciamo benissimo lo facciamo poi dopo risponde anche Bruno un esempio solo due esempi il primo stiamo mettendo in piedi un progetto per cui tutto quello che non è che è accaduto ma non si è poi realizzato nei cinque anni precedenti adesso si può realizzare che cosa nei cinque anni precedenti il dottor Santarelli è là vedo il dottor Santarelli ma no solo perché lo conosco il terreminese no no perché ormai siamo qua per indicazione di tale che è sì no bisogna rispondere se no è tutto un casino così che non si capisce niente allora il dottor Santarelli insieme ad altri medici valenti della sanità pubblica di Carabia sono venuti in questo posto hanno appreso imparato le tecniche qui dentro ok adesso sto parlando della cardiologia strutturale l'età avanzata quindi riconoscimento altro che sostituzione riconoscimento e adesso da qui alla fine dell'anno definendo le regole del gioco Bruno finalmente questo paziente viene appreso a carico dal pubblico ma viene trasferito qui l'intervento lo fanno insieme gli interventisti pubblici e privati e viene gestito in maniera coordinata è un passo avanti notevole che va a definire ruoli e situazioni ma in un'ottica di integrazione c'è venuto in mente per un attimo confesso perché è meglio confessare che potevamo andare in solitaria ma è stato un attimo mi sono ripreso subito ma che perché ho anch'io l'orgoglio anch'io dico ma che purdè sempre utme anni sem ogni tanto ti viene anche di vincere una volata no se è buono anzi che si può primi appare merito forgo finish non si capisce abbiamo vinto insieme primo esempio vado dietro finisco sono vengo alla sollecitazione che mi ha fatto Bruno Bruno deve onestamente dovrebbe lui mi pare grande dovrebbe onestamente ammettere che questo ragionamento sul fatto che il privato ci abbia dato una grossa mano per contrastare i tempi d'attesa sulla specialistica io ho confessato dal primo momento non ho mai opposto resistenza e sono stato colui che ho preso il telefono io che 85% rosto io di una volta ok benissimo a dimostrazione che si può sempre cambiare anche meglio abbiamo preso il telefono e ho detto Bruno guarda che sui tempi d'attesa chirurgici ci devi quello come Ayrton perché non la presenta tutti ci dovete dare una mano perché lo spazio c'è andiamo a definire gli oggetti vediamo di fare delle cose per bene andiamo a definire il tipo di casistica perché non si può fare tutto e entro settembre gettiamo le basi normative perché se andiamo sott'acqua voi ci possiate dare una mano quindi ho risposto tutto ok un minuto un minuto diciamo che io rispondo fondamentalmente alla sollecitazione di Silvano Berlicchi che mi dice come vedresti che tra i cinque anni devo dire che per quanto riguarda la domanda di San Savini io credo che le cose sicuramente in Romagna si stiano un po' cambiando però la tendenza la volontà la voglia di sostituire o di replicare cose presenti nel privato che funzionano sia stata ancora ogni tanto ricompare e riviene fuori gli esempi credo che siano più passati che presenti però è sicuramente e questo da un punto di vista del privato io parlo ora di Maria Sicilia ma poi potrei parlare della stessa cosa dalla Malatessa Novella alla Salorenzino alla Domus Nova a Santa Villa Maria eccetera eccetera di Rimini ogni tanto questo può essere anche uno di quei bias di quei virus che vanno a minare il rapporto fiduciario che a volte quando si fanno alcune discussioni devo dire che ci sono dei passi avanti reali sono se abbiamo cominciato con le liste d'attesa io mi aspetto nei prossimi cinque anni un'area vasta in cui una una usle alla Romagna è super accorciata di arrivata intanto leggo il titolo è un problema di comunicazione comunque una usle alla Romagna in cui si affrontano insieme i problemi ognuno con i propri ruoli con i propri indirizzi però con una forte spirito di risolvere io credo che entro settembre riusciremo a sicuramente avere un sistema che ci permetta di poter attaccare anche che è un problema perché ci sono perché questo vuol dire dare risposta al cittadino ma vuol dire anche interferire sulla mobilità passiva perché non ci dimentichiamo che questa regione è vero che è la regione che ha 350 milioni di saldo attivo ma ne ha 250 di mobilità passiva quindi vuol dire che per 250 milioni complessivi non riesce a dare risposta ai propri cittadini sul territorio questo io credo che sia un aspetto che possiamo possiamo e dobbiamo affrontare perché sono soldi che comunque hanno ragione fatta guardare poi alla fine del saldo però questi sono soldi che vanno io credo che su questa partita si debba lavorare insieme naturalmente con i vari step con le varie cose si debba lavorare insieme io come ripeto noi ci siamo è naturale che fronte di una stretta e franca collaborazione dopo la discussione dopo tutto quello che è dopo i permali le strette di mano gli abbracci e così io credo che noi faremo un passo avanti noi ci siamo e siamo pronti ad affrontare questo problema e questo io mi aspetto da questo che io veramente forse te non te lo ricordi ma ai tempi quando all'inizio quando ci incontriamo le prime volte si io credo che la URD la Romagna possa diventare un esempio per la regione e per l'Italia perché abbiamo tutte le condizioni oggi penso che tutta una serie di problemi che dovevano essere affrontati a livello di direzione generale della URD siano non voglio di superare però sicuramente siano i quali di superamento e quindi credo che il nostro rapporto possa consolidarsi e possa veramente contribuire a questo progetto quindi X integrato con la rete affrontare tutte le liste d'attesa e come ripeto anche un migliore coordinamento anche con Medo che per me è uno dei punti è una struttura che potrebbe essere maggiormente sfruttata a livello anche di attrattività complessiva allora io direi che al di là al di là del possibile errore del titolo di cui il colpevole poi si risalirà con tutta la catena le tre parole chiave ci sono cioè questo finale è proprio qualità innovazione collaborazione credo sia quello che è emerso da questa serata credo che ci sia un po' ancora di strada da fare però il modello di integrazione anche nei confronti dei medici lo dico da da medico che ormai non fa più un medico per la fortuna di tanta gente quindi lo ammetto io per primo ci sono molte persone fortunate che girano per l'Italia perché non mi hanno incontrato però scrivendo ci si accorge che tante volte i problemi nascono dalla comunicazione dal modo di porsi dal modo di essere verso gli altri non è una battuta quella della comunicazione interna cioè io credo che il primo snodo per far passare questi messaggi di integrazione e vi faccio un esempio banale pensate solo alle vaccinazioni antinfluenzali in cui qua come regione vi state muovendo ma è capita di parlare in altre regioni in cui 4-5 medici su 5 dicono io non la faccio con che credibilità poi si va a dire a una persona vaccinati perché devi farla ecco io credo che la riflessione debba anche essere proprio su come ci poniamo di fronte a una cosa su come riusciamo a condividere questi modelli di integrazione e come poi possiamo portarli fuori credo che adesso ci sia ancora un momento per stare insieme e continuare a chiacchierare Oda Costa per il saluto perché siamo in casa del Carlino ed è Oda che deve venire anche il grazie guardate che bella abbiamo una tecnologia che facciamo tutto comunque credo sia stata interessante e che ci sia stata un po' di base importante Oda a te allora grazie ecco grazie allora grazie veramente per la vostra attenzione per il dibattito che è sicuramente stato acceso ma sicuramente fruttuoso troverete i risultati di questo dibattito proprio sulla nostra testata con il resto del Carlino in particolare domenica prossima nella sezione dedicata appunto alla salute come sapete tutte le domeniche il quotidiano nazionale dedica delle pagine sempre all'alimento della salute e anche del benessere io devo fare dei ringraziamenti nuovamente per l'ospitalità al padrone di casa quindi al dottor Ettore San Savini che vorrei che ci raggiungesse qui sul palco perché vorremmo fare una foto comune perché avrei un piccolo dono da fare lei riesce a venire qua con noi? ok allora vorremmo vorremmo Federico vogliamo ospitare il nostro padrone di casa ok esatto e vorremmo donare vorremmo donare un volume molto interessante un po' un po' grande un po' particolare adesso penso che ci sia è un modello di integrazione questo perché ci sono 130 anni in un libro e quindi è un attimo ponderoso esatto è comunque un volume molto interessante che in vendita anche in edicola ma che credo questo possa essere invece un dono speciale perché il carlino ha compiuto due anni fa 130 anni abbiamo fatto un volume con dentro tutte le prime è un cofanetto più che un volume con dentro tutte le prime pagine serigrafate in 130 anni di storia firmate dai direttori anche storici del carlino quindi lo vorremmo donare al dottor Sansalini ma anche a tutti i nostri ospiti che vado a nominare e anche ai due sindaci se volete venire qua uno in rappresentanza anche del dottor Lucchi che oggi non ha potuto essere ma abbiamo anche il sindaco di Massa Lombarda quindi lo doniamo anche a loro e poi per chi porta probabilmente avrete i suoi paoli esatto perché è un po' pesante questa integrazione è proprio nel senso che ci ammariamo in diretta ora per il resto vediamo tutti avere qualcosa assieme esatto abbiamo fatto la foto esatto vorremmo dopo che abbiamo fatto la foto ok i sindaci se vogliono raggiungerci ecco facciamo ok perfetto allora facciamo una foto insieme tutti insieme perfetto ecco e finita questa piccola questa piccola esigenza diciamo editoriale vorremmo brindare tutti insieme con voi in un piccolo buffet che abbiamo restito subito fuori naturalmente da questa splendida sala quindi grazie di cuore e arrivederci alla prossima occasione grazie 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 a tutti